C'è un pezzo che mi ha sempre caratterizzato, io nasco come batterista, poi passo alle percussioni. In queste piccole formazioni io riprendo con mia grande felicità suonare uno strumento che conosco molto bene, che amo, che è la batteria, lo quale spesso mi sono rincimentato con tanti artisti, batteristi famosi, italiani, Tudio De Piscopo, insieme suoniamo, ricordo che è un grande batterista. Ma c'è un pezzo, un pezzo di ritorno da un viaggio in Africa che è stato un pezzo per me importante. Un pezzo, un pezzo di ritorno. 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 Un pezzo, un pezzo, un pezzo di ritorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.